Quel vecchio? E chi è? Non è possibile, Sara non può stare con un vecchio. Senti, non sei scappata. Sì, sono scappata. Un uomo sposato non si mette con una bambina. Possedere il fascino di un'altra età. Sono maggioranna e padrona della mia vita. È il desiderio di ogni donna. Non penso di essere la prima donna della tua vita. Sei la prima donna sposata. A qualunque età. Sì, invecchiami almeno 5 anni. Cosa non si fa per un uomo? In prima visione, il bello delle donne. Oggi, avere un lavandino sempre brillante non è più un problema. Perché Via Cal elimina il calcare e lascia un velo antigoccia che protegge dalle macchie d'acqua. È così piccolo, così delicato. E la ricerca Mellin studia e controlla affinché la sua alimentazione sia equilibrata e sicura. Per aiutarlo a crescere forte e sano. Mellin, con te, fin dai primi giorni. Tutto il giorno in piedi, gambe pesanti, c'è Essa Vengelli. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Oh, Leonardo! È bravo il migenio fanbe. Guarda che il sistema di cottura ideale c'è già. È il Turbo Grill di Forno Più. Per cuocere più rapido e più croccante dall'antipasto al dolce. Ah, Leonardo, questo sì che l'è il sistema di domani. Vuoi un assaggino di futuro? Però, anche Forno Più l'ha inventata Ariete. E sì che c'è il genio in casa. Ariete, il genio della casa. Se l'amore della tua vita sapesse parlare, ti direbbe che hai i capelli più morbidi e il colore più intenso. Se sapesse contare, non troverebbe nessun capello bianco. Garnier Nathéa, la prima colorazione permanente al concentrato d'olio di frutti. Più che una semplice crema, Nathéa penetra nel cuore del capello. Risultato, un colore profondo, più duraturo, i capelli ben protetti. E se sapesse parlare, direbbe che sei la più bella. Garnier Nathéa, il colore che ti fa star bene. Agip Sint 2000, il lubrificante scelto da grandi case automobilistiche. Stream TV è grande cinema. Su sei canali, oltre 65 film al giorno, 365 giorni l'anno. Tutta la UEFA Champions League, tutto Wimbledon, gli Open d'Italia, i campionati mondiali di hockey su ghiaccio e il wrestling della Lega Pro USA. E se ti abboni oggi, guardi gratis fino al 31 agosto. Abbonati subito! Augusto, qual è il segreto del suo latte? Questo è il latte. Questo invece è il latte fresco Granarolo, alta qualità. Arriva ogni giorno dalle stalle Granarolo, mantiene tutto il suo sapore e le sue vitamine. È quello della Lola! E il segreto dei suoi regali? La grande raccolta? Regali di alta qualità. Tanti bellissimi regali per voi e per lui. Scopriteli sul nuovo catalogo. Granarolo, la grande passione per l'alta qualità. 9 irresistibili piccanti. Pringles hot and spicy!